La madre è stata affidata alle cure dei sanitari che l'hanno trasportata all'ospedale di Quarnier. I vigili del fuoco sono entrati nell'abitazione con maschere e bombole di ossigeno a causa del cattivo odore causato non soltanto dal cadavere ma anche da cumuli di immondizia, accertamente in corso sulle cause della morte che con ogni probabilità è stata dovuta ad un malore. La madre è stata affidata alle cure dei sanitari che si tratta di un malore. La madre è stata affidata alle cure dei sanitari che si tratta di un malore. La madre è stata affidata alle cure dei sanitari che si tratta di un malore.